Neanche la pioggia è riuscita a fermare il successo delle giardine T-Finals che nel pomeriggio di ieri hanno visto compiersi il loro atto conclusivo. La Champions League della scuola calcio si è chiusa con le finali dei tornei ed il Mac Cittadini e Ciccio Burger rispettivamente destinate ai ragazzi 2004, 2003 e 2001, tributo della Lazio che in ben due categorie si è giudicato il trofeo del primo posto per quanto riguarda il 2004. I biancoceresti hanno piegato il sabio con un netto 4-1 meno rotondo, invece il successo dei ragazzi di Iannuzzi ai quali solo i due gol sono comunque bastati per piegare i giardini e i padroni di casa grazie anche ad un gol. Dieti a entrare il figlio del direttore sportivo Laziale a chiudere la Kermess, è stato il calcio a 11 con una finale interamente dedicata ai direttanti tra Vigor per Conti e Sabio. L'anno spuntata è Baurana con un perventorio 3-0 finita e legale. È stato poi il momento dei premi con i migliori ragazzi, premiati in ogni categoria e le coppie consegne dai capitani delle squadre vincitrici, il tutto sotto la guida impeccabile del presidente Ranieri, artefice principale di una competizione che mette in mostra il futuro del nostro calcio regionale. Appuntamento ora alla prossima edizione che non potrà che essere ancora migliore di quella appena conclusa.